Allora ci troviamo a Bacoli sul litorale di Miliscola, precisamente sul lido Acqua Beach, ci troviamo qui perché abbiamo scoperto questi due personaggi su questa spiaggia. Cosa staranno facendo? Si tratta del regista Luciano Piccolo e dell'attore amatoriale Salvatore Illiano di Topoliana, della compagnia Barraca, ma dobbiamo scovare un po', vediamo cosa stanno combinando. Signori, signori buonasera, buonasera, allora mi intrufolo, allora scusateci per questa incursione ma non potevamo farci sfuggire la soffiata, ci hanno detto di avervi visti su questa spiaggia e due personaggi come voi sicuramente stanno organizzando qualcosa di spettacolare, spettacolare! Sì, sì, spettacolare, innanzitutto buonasera, a noi ci fa molto piacere che ci avete beccato, felicemente, e niente, praticamente abbiamo pensato di, d'estate il teatro fa caldo a teatro, è chiaro, no? Allora abbiamo pensato di andare noi come teatranti dagli spettatori, non sono stavolta gli spettatori che vanno al teatro, ma è il teatro che va dagli spettatori. E abbiamo pensato di farlo sulla spiaggia dove potete vedere a quel punto lì monteremo un palcoscenico e le scene e tutto quanto e faremo, a questo punto poi subentra il regista. Sì, perché noi vogliamo sapere di più, avete scelto questa meravigliosa, spettacolare cornice per cosa? Per fare uno spettacolo, chiaramente, no? Quale migliore panorama, quale migliore sito per fare uno spettacolo all'aperto se non sulla spiaggia? Le date, la data vogliamo saperla? La data è giovedì 3 luglio, ore 9, ore 21, ore 21, venite, venite che non ve ne pentirete, non ve ne pentirete, veramente non ve ne pentirete. Quindi il 3 luglio, giovedì 3 luglio alle ore 21, tutti qui? Tutti quanti qui, tutti quanti qui ad Aqua Beach, sul litorale di Miliscola. Qualche altro capolaro per loro suo e staranno giuciando maestra. Nemo profeti in patria, overe, non ve ne pentirete, non dovevo...